Ciao e benvenuto sul mio canale. Oggi vediamo sulla Smart TV Samsung come installare un'app. Come vedete su questa schermata io ho già installato YouTube, Netflix, Amazon Music, Internet già di default c'è installata, Amazon Prime Video, Facebook Watch e altre app. Come si fa per aggiungere nuove app su questa barra? Come installare nuove app? Innanzitutto ci spostiamo con la freccia sinistra del mouse, del joystick, andiamo a sinistra e andiamo su questa icona qui con quattro quadretti app. Per installare una nuova app basta cliccare col tasto centrale di questo qui ed entrare in questo tasto. Una volta che è selezionato questo tasto con quattro quadrettini spingere il tasto centrale. Entreremo nell'app store di Samsung dove possiamo installare tutte le app possibili. Allora, vediamo un po', andiamo giù. Questi sono i video più popolari che mi suggeriscono sulle app che già ho installate. Vediamo come installare una che non ho installato. Ad esempio, queste sono app scaricate già. Vediamo i combattimenti oppure Tennis TV. Ad esempio, clicchiamo sul tasto centrale, andiamo ad installare, anche questa è di 10 MB, si evidenzia, installa e clicchiamo col tasto centrale. Errore. Probabilmente la televisione si è disconnessa da internet e quindi non mi fa installare. Andiamo a provare altre applicazioni passatempo. UFC TV, U.E. Questa è installata. Mettiamo TED. Vediamo TED è una app che ti fa vedere le conferenze. E' molto interessante. Vediamo se si installa. Qui c'è l'avanzamento del... Vedi? Arriva da 100%, quindi si è installata. Adesso premiamo sul tasto apri. E si dovrebbe aprire TED, però io credo di non avere un account TED, quindi probabilmente non vedrò nulla. Vediamo. Queste sono delle persone che ci spiegano in un auditorium, ci spiegano, ci fanno delle lezioni interessanti. Ad esempio, vediamo questa qui. Clicchiamo il tasto centrale, play. Voglio vedere se ci sono i sottotitoli in italiano. Per vedere se ci sono i sottotitoli in italiano andiamo su sottotitoli con le freccette. E clicchiamo. Ci sono solo in inglese. La lezione. Non c'è. Ah, l'hanno messa qua, fra le app scaricate. Quindi dovete andare su app e poi andate con la freccia in alto e cliccate su ok e aprite l'app che avete scaricato. Ok, così si scaricano le app. Così si scaricano le app. Praticamente col tasto sinistro andate su apps, come vedremo adesso, sul tasto a quattro quadrettini. Spingiamo il tasto centrale ed inseriamo. Poi, in un'altra entrati, andremo a cercare la nostra app preferita. In questo caso ho cercato TED. Clicchiamo sul tasto installa e dopo pochi secondi l'app si sarà installata. E la possiamo aprire. Qui vediamo il caricamento dell'installazione. 100. E adesso possiamo aprire l'app. Ok, spero che questo video ti sia utile come gli altri che ho caricato per la Smart TV Samsung. E per adesso ti saluto e ti do appuntamento al prossimo video. Clicca sulla campanellina ed iscriviti al mio canale di tutorial. Un saluto a tutti. Ciao.